La attuale ministra della difesa, sto parlando di Elisabetta Trenta, pensate che si sarebbe diventata in un brano che possiamo considerare come il cavallo di battaglia di Gianni Morandi. Sto parlando della canzone intitolata C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, una canzone che probabilmente tutti conoscono appartenente al grande Gianni. E ovviamente non è passata inosservata la canzone cantata dal ministro Trenta, ripeto, dal buon Gianni Morandi, il quale ha apprezzato, da come si legge sul web, la piacevole esibizione, la piacevole performance canola di questa brava ministra e così ha deciso di condividere tutto su Instagram, il social di Foto per eccellenza. Ovviamente non c'è da dirlo ma lo faccio lo stesso, il brano in questione è diventato virale sul web. Complimenti al ministro della difesa Elisabetta Trenta, complimenti al buon Gianni Morandi, iscrivetevi, commentate, datevi la vostra opinione e al prossimo video da narratori italiani. Grazie mille. Grazie.